Come sapere se il tuo sistema operativo Windows 11 24 H2 è attivo anche se non esce il messaggio là sotto come faceva con Windows 10, Windows 10 non è attivo. Quindi basta che scrivi semplicemente qua sopra attivazione, impostazioni, attivazione oppure scopri se Windows è attivato. Clicchi qua sopra e qui c'è scritto stato attivazione e il tuo Windows è attivo. Se tu hai attivato Windows 10 e sei passato a Windows 11 non ti preoccupare, hai sempre la tua licenza attiva anche salvata sul tuo account Microsoft. Quindi è lo stesso account e se provi anche a reinstallare Windows 11 su un altro dispositivo e metti il tuo account automaticamente si attiverà perché è connesso al tuo account Microsoft. Quindi Windows 11 Pro io lo tengo attivo da ormai due anni e mezzo da quando poi sono passato da Windows 10 a Windows 11 quindi non mi ha chiesto più niente. Ho formattato il computer tipo 6 volte e Windows 11 è rimasto attivo. Per altri proprio più ancora puoi commentare sotto al video. Grazie a tutti per questa visione, un piccolo tutorial come sapere se il tuo Windows 11 è attivo. Quindi grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! 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 Grazie a tutti.